Buongiorno da FTA Online, sulla parità questa mattina la borsa Fuzzimib in guadagno dello 0,1% circa, siamo intorno ai 21.830 punti, i prezzi si mantengono all'interno del canale laterale che stanno disegnando ormai dai massimi di fine novembre, un canale che abbiamo già visto negli ultimi giorni e che potrebbe dimostrarsi anche un flag, ovvero una figura di continuazione della tendenza rialzista, che si era avviata a fine ottobre, quindi il superamento del lato alto del canale che attualmente passa intorno ai 22.160-170 punti fornirebbe un segnale di forza notevole e anticiperebbe il ritorno in area 23.000, attenzione perché sotto la base del canale che praticamente coincide con i minimi di settimana scorsa, quindi discese sotto area 21.6 potrebbero invece ribaltare il quadro e fare temere la ricopertura di questi tre gap che i prezzi si sono lasciati alle spalle nel corso del rialzo. Oggi approfittiamo della relativa tranquillità della borsa per dare un'occhiata ai mercati internazionali, fare un po' di analisi intermarket, ci sono alcuni movimenti interessanti sulle commodities, iniziamo con il wheat che a seguito della notizia di una probabile imposizione di un'ulteriore tassazione sulle esportazioni russe di 25 dollari per tonnellata, ha avuto delle notevoli oscillazioni negli ultimi giorni, ieri c'è stato il raggiungimento di un nuovo massimo, poi una brusca flessione che però non ha violato i minimi del giorno precedente, quindi la tendenza sembrerebbe essere ancora positiva, qui sul wheat vediamo un esempio di quello che vi stavo dicendo prima, ossia il canale che diventa un elemento correttivo, quindi il nostro canale che ha contenuto la discesa dei prezzi, con il canale le quotazioni avevano ritracciato il 38,2% circa del movimento precedente, quindi avevamo visto una prima fase di deciso rialzo, corretta poi dal movimento all'interno del canale per il 38,2% circa, quindi rimanendo nell'ambito di quelli che sono i tracciamenti fibonacci, il superamento del lato alto del canale, che però sarà da confermare poi nella giornata di oggi, visto la brusca discesa di ieri, potrebbe rappresentare la ripresa dell'up trend, in questo caso sarebbe molto probabile il raggiungimento di un nuovo massimo e i prezzi potrebbero andare a raggiungere il lato alto del canale che contiene tutta la fase ascendente dai minimi di giugno e puntare quindi verso i 671 dollari, questo è ovviamente il future, quindi le quotazioni fanno riferimento al derivato, se invece dovessimo rientrare all'interno di questo canale che io ho definito correttivo, in quel caso ci sarebbe ovviamente da andare ad osservare con attenzione quello che potrebbe succedere in caso di contatto con questa trendline, perché la violazione della trendline metterebbe fine all'ipotesi rialzista, prospettando invece una fase di ripresa, quindi questo è un mercato sul quale si potrebbe magari valutare di investire o col future o con gli etf, andiamo a guardare adesso invece il mercato dell'oro, sul grafico dell'oro troviamo una situazione molto simile, anche qui abbiamo una fase di ribasso che però sembra essersi mossa all'interno di una fascia ben definita, vedete se andiamo a tracciare anche qui la linea di tendenza ribassista e la sua parallela, vediamo che prezzi si sono in realtà mosse all'interno sostanzialmente di questa fascia, questo è tutto il rialzo che è partito dai minimi di agosto del 2018, se di questo rialzo consideriamo solo l'ultima porzione, quella cioè partita dai minimi di marzo, come sono partiti dai minimi di marzo e rialzi praticamente di tutte le borse, vedete quello che è successo è che in questo caso il ritracciamento è stato del 50%, non del 38,2% come avevamo visto prima, ma la situazione non cambia, ovvero abbiamo ancora una volta una fase di crescita corretta nell'ambito dei ritracciamenti fibonacci, quindi senza negare la tendenza precedente, se le quotazioni dovessero salire al di sopra del lato alto del canale, anche qui avremmo la possibilità di considerare tutta questa fase vista dal massimo di inizio agosto come un flat correttivo, quindi introduttiva a una ripresa del trend rialzista. il target, nello stesso modo con cui abbiamo calcolato il target per il WIT sarebbe dato dal lato alto di questo canale, si potrebbe porre quindi in prossimità dei 2250 dollari. Ci sarebbe da preoccuparsi per un rialzo dell'oro, per quello che riguarda le borse, non necessariamente se mettiamo a confronto il grafico dell'S&P 500 con quello dell'oro, vedete osserviamo delle evidenti similitudini, perlomeno in molte fasi il mercato si è mosso in maniera sincrona, è stato solo da agosto quando l'S&P 500 ha perso forza che l'oro ha avviato, mentre l'S&P 500 si è mosso per vie laterali, l'oro ha avviato questa fase di moderata correzione che però abbiamo visto è più una correzione che una vera e propria inversione di tendenza. Con il tentativo di rimbalzo che ha fatto l'S&P 500, quindi l'uscita dalla fase laterale anche l'oro nelle ultime settimane ha dato segnale di ripresa, quindi non sarebbe necessariamente negativo negativo, una situazione di rialzo da parte dell'oro. Nel corso degli ultimi mesi l'oro si è comportato come un asset, non come un bene rifugio, ovviamente con una prospettiva di crescita dell'inflazione al medio termine abbastanza consistente, visto che ci sono dei tassi bassissimi e che si è investito molto in termini di governo e banche centrali per fare ripartire l'economia, è probabile che anche l'inflazione alla fine ripartirà, quindi il mercato potrebbe decidere di posizionarsi sull'oro e al tempo stesso di rimanere anche sull'azionario. Pertanto i due rialzi, uno non esclude l'altro, ma potrebbero tranquillamente convivere almeno per un certo periodo di tempo, cioè almeno fino a che i tassi eventualmente non inizieranno a salire. Visto che abbiamo parlato di S&P 500 andiamo subito a guardare questo grafico. Nelle ultime sedute c'è stata una tendenza alla flessione, siamo però rimasti sempre nell'ambito di un movimento assolutamente gestibile, se guardiamo la media mobile esponenziale a 10 giorni è stata messa sotto pressione, ieri i prezzi ne sarebbero anche scesi al di sotto, però per il momento non c'è un'accelerazione al di sotto della media che faccia temere un'inversione di tendenza rispetto al rialzo che c'è stato dai minimi di fine ottobre. Se le quotazioni dovessero scendere a questo punto al di sotto invece di area 3, 6 e 30, in quel caso potrebbe effettivamente partire una fase di ripiegamento, c'è questo gap da ricoprire, questo potrebbe essere il gap del 24 di novembre con base a 3.590 circa, questo è il target o proprio il primo target verso il quale i prezzi potrebbero tendere per poi magari cercare di riprendere nuovamente a salire, però ecco sull'S&P 500 per il momento non ci sono delle indicazioni particolarmente preoccupanti, certo tutte le volte che la tendenza si interrompe come sta accadendo ormai da alcune sedute e soprattutto quando compare una figura ribassista come questo bearish engulfing che abbiamo visto tra l'8 e il 9 di dicembre, un minimo di apprezzione per la tenuta della tendenza è corretto averla. Se ipotizziamo che dai minimi di settembre si è partita una nuova fase impulsiva, quindi un movimento che sarà destinato a svilupparsi in cinque onde di rialzo, il livello al di sotto del quale le quotazioni non devono scendere per evitare di negare queste ipotesi, quindi per non negare l'ipotesi impulsiva è il massimo del 12 di ottobre, infatti noi sappiamo che la teoria delle onde di Elio ci dice che l'onda 4 non deve mai scendere al di sotto del massimo dell'onda 1 per evitare che la conta venga negata, quindi nell'ipotesi che questa via di definizione sia un'onda 3, quindi questa linea blu più spessa, nel caso partisse un'onda 4 correttiva, magari fosse già in corso, questa non dovrebbe scendere al di sotto dei 3.550 dollari per evitare che la conta venga negata e che quindi questa fase non si possa più considerare impulsiva, ma che possa diventare invece parte della correzione che era iniziata con i massimi di settembre. Quindi il livello chiave di tutta questa fase è quello dei 3.550 dollari al di sotto dei quali i prezzi non devono scendere per mantenere un'intonazione di medio termine positiva che gli permetta poi di andare a fare registrare nuovi massimi rispetto a quelli visti a inizio mese. Torniamo adesso invece sulle materie prime, abbiamo parlato dell'oro, andiamo a guardare anche il palladio, guardiamo il grafico di forza relativa che mette in rapporto il palladio con l'oro, per fare questo andiamo a recuperare il grafico dell'oro e vedete questa curva che risulta dal rapporto tra le due serie storiche, appunto il grafico di forza relativa, essendo palladio su oro nel momento in cui la curva sale vuol dire che il palladio sovraperforma l'oro, cosa che sta succedendo ormai da luglio, quando invece la curva scende vuol dire che è l'oro a sovraperformare il palladio. Per il momento non ci sono indicazioni contrarie al proseguimento della fase di sovraperformance da parte del palladio, c'è però da dire che ormai da alcune settimane siamo in questa fase sostanzialmente laterale nella quale tutto potrebbe effettivamente accadere. Se il prezzo devessero scendere di sotto della base del trading range verrebbe inviato un preoccupante segnale di debolezza, viceversa la rottura della parte alta della fascia fornirebbe il segnale di ripresa della tendenza rialzista. Non ci sono correlazioni particolari in questo momento tra il palladio e il mercato azionario, certo che in un'ottica di prospettiva economica, visto che il palladio è un metallo industriale, la sua evoluzione a rialzo sarebbe un indizio incoraggiante anche per l'andamento dei mercati azionari. Del tutto simile le considerazioni che si possono fare per il rame, anche questo è uno dei metalli industriali per eccellenza, tra l'altro la sua importanza nel settore anche della costruzione dell'auto elettrica è fondamentale, quindi ovviamente oltre a essere legato all'industria tradizionale è anche uno strumento che è importante in un'ottica di ricondizionamento e di rimodellamento dell'economia. Anche qui abbiamo una situazione di tendenza rialzista che è ripartita da questo minimo, il rialzo che abbiamo visto dal minimo del 2 ottobre al massimo del 21 ottobre, se prendiamo questa ampiezza, la proiettiamo dal minimo del 2 novembre, vedete che cosa otteniamo? La proiezione del 161,8 di quella ampiezza ci forniva il target sul quale si è per adesso arenato il rialzo. Ragionando sempre in termini di onde di Elliot vorrebbe dire che per il momento abbiamo visto i tre quinti di una fase impulsiva, l'onda 3 molto spesso si dimostra essere proprio 1,618 volte l'ampiezza dell'onda 1, quindi questo segmento potrebbe essere l'onda 3, a seguire potremmo avere un'onda 4 e poi una nuova onda 5 che potrebbe portarci nella parte alta del nostro canale. attenzione perché come abbiamo detto prima, l'onda 4 può essere di ampiezza limitata, magari non scendere al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni, questa è una cosa che spesso accade, che comunque è abbastanza lontana, ma l'onda 4 in teoria può scendere fino ad intercettare il massimo di onda 1 e quindi in quel caso ci sarebbe un rischio di una fase correttiva abbastanza profonda e visto quello che abbiamo detto, considerando la forte correlazione che c'è tra l'andamento del prezzo del rame e le aspettative sull'andamento dell'economia, se dovesse partire effettivamente una fase correttiva più consistente potrebbe essere quello un segnale negativo anche per le borse. Terrei d'occhio la media mobile esponenziale a 20 giorni sul grafico del rame per avere un riferimento di allerta sotto la media esponenziale a 20 giorni che passa intorno ai 7500 dollari, ci sarebbe da iniziare a temere l'avvio di una fase di debolezza più accentuata. Mi sono lasciato per ultimo il Bitcoin che di recente ha avuto, ha dimostrato un po' di incertezza dopo aver messo a segno invece un rialzo molto potente, la similitudine tra l'andamento del Bitcoin e quello del mercato azionario è abbastanza evidente, questo è l'S&P500 sotto il Bitcoin nella parte superiore, vedete le due curve tendono ad avere un andamento abbastanza simile. Se dovesse avviarsi una fase di ripiegamento sul Bitcoin e questa verrebbe segnalata dalla violazione di questa trendline che può essere vista come il limite inferiore di un potenziale testa spalle ribassista che sarebbe questo, quindi se il Bitcoin dovesse scendere al di sotto della linea che passa per i 17.870 punti ci sarebbe il rischio di una fase di ripiegamento più consistente, se invece fino a quando questa linea verrà rispettata la fase laterale che abbiamo visto nell'ultima settimana potrebbe essere letta come una semplice pausa del trend, qualcosa di molto simile rispetto a quello che avevamo visto qui e quindi non è detto che magari dopo una fase di lateralità il mercato non possa riprendere nuovamente a salire, attenzione perché invece in caso contrario potremmo essere in una situazione simile a questa dove c'era effettivamente un bel testa spalle ribassista, una volta completato il testa spalle i prezzi poi effettivamente avevano accelerato al ribasso in maniera abbastanza evidente, quindi la linea rossa la terrei come linea di demarcazione tra uno scenario ribassista e uno scenario invece di proseguimento e rialzo, ovviamente qui siamo come noto in prossimità di una zona di resistenza importante, i precedenti massimi storici erano stati toccati a dicembre del 2017, i prezzi si sono scontrati proprio con quella resistenza a inizio mese e quindi la rottura di area 19.900, area 20.000 sarebbe da leggere come un segnale di forza molto importante che sbloccherebbe probabilmente la situazione in favore del proseguimento e rialzo verso obiettivi che è difficile determinare ma che potrebbero essere anche molto lontani dai prezzi attuali. Per adesso infatti questa prima fase e questa seconda fase potrebbero essere viste come due elementi di una terna correttiva ma il superamento del massimo del dicembre del 2017 lascerebbe invece propendere per una situazione completamente diversa dove il rialzo che abbiamo visto tra il 2018 e il 2019 sarebbe l'onda 1 di un quintetto rialzista che potrebbe tranquillamente arrivare fino ai 32.000 dollari e con una prima resistenza per vedere il top dell'onda 3 intorno al 21.500 ma che poi potrebbe tranquillamente estendere anche fino ai 32.000 dollari come target di onda 5. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.